Io ci credevo e come all'Italia, sempre. Beh, a me sono piaciuti un po' tutti. Non aspettavi la vittoria così? Ma sinceramente non me l'aspettavo molto, anche perché la Spagna era la favorita di questo torneo. È stata davvero una grande vittoria, abbiamo giocato davvero davvero veramente bene. Adesso sotto con la Germania. Eh, sarà una partita difficile, ma noi abbiamo cuore. Se cerchiamo con il cuore possiamo fare qualunque cosa. A dire la verità siamo stati forti noi, però diciamo la Spagna è un po' calata. Non era la Spagna che ci aspettavamo, diciamo, dai. Spagna, Spagna, vai a casa! Una vittoria inaspettata, ancora più bella per questo. Assolutamente, non pensavamo sinceramente di dominarli, li abbiamo completamente dominati, non pensavo proprio. E sincero, ora ci tocca la Germania e vediamo anche con la Germania di farcela. Siamo i più forti. Abbiamo vinto 2-0 con la Spagna, adesso battiamo la Germania, forza Azzurri! Il migliore in campo. La difesa. Il migliore in campo, la difesa. La difesa, la difesa. Pellé ha segnato il secondo gol, quindi Pellé. Adesso con la Germania. 2-0, 2-0. È difficile, sarà il migliore di vincere, ma vinceremo. Vincere ragazzi. Forza Italia! L'Italia, forte! L'Italia, forte!